Prima stava salutando Fabrizio Lucchesi, questo è il passato, il presente, invece dice che questo Pescara oggi non è riuscito a vincere una partita che nel primo tempo si era messa anche bene a livello di occasioni, insomma sembrava che potesse arrivare questo gol, invece poi il gol non è arrivato. Sì, hai detto bene tu, purtroppo è un periodo che non stiamo facendo bene, però guardiamo il bicchiere mezzo pieno perché in partite come questo puoi rischiare anche di perderle, quella grande parata di blizzaria alla fine ci ha salvato un'altra beffa, quindi va bene così, guardiamo, ripeto, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Un'unica cosa che, come ho detto a qualche tuo collega, non si può giocare su campi come questo, perché se c'è una squadra che vuole giocare palla a terra, praticamente è impossibile. Presidente, ieri si è chiuso il mercato, soddisfatto delle operazioni portate a termine, avete regalato a Colombo Merola, che era un giocatore che stavate inseguendo dalla scorsa estate, è arrivato Gozzi, avete tolto qualche giocatore che aveva poco spazio, è rimasto Colai, che per oggi non è stato convocato. No, non è stato convocato perché Colai pareva dovesse andare via e invece poi alla fine non è saltato tutto, però Colai è un giocatore del Pescara, io ho avuto modo di dire ieri dopo il mercato che per quanto mi riguarda personalmente sono felice che Colai sia rimasto perché per me è un altro giocatore forte che ci può far fare la differenza. Come ha visto oggi l'Escano in campo, il ritorno dal primo minuto dopo tanto tempo? No, bene, secondo me ha fatto quello che doveva, ha lottato, è andato su ogni pallone, era la prima partita che rigiocava, per cui molto bene. L'Escano tornerà a fare l'Escano che ha fatto all'inizio. Prima parlando con lo studio avevo detto che questo pareggio, presidente, per il Pescara in casa del Monterosi assomiglia molto ad un brodino e così dopo ovviamente la sconfitta con il Foggia. Un brodino, su questo campo ha pareggiato anche il Crotone due settimane fa, non è che sarà facile per nessuno, ripeto, per chi deve giocare a calcio non sarà facile sicuramente giocare su questo campo perché si giocherà con palle alte e sempre rinvide una parte dall'altra, è difficile già mettere la palla a terra e poi magari saltare l'uomo, fare delle azioni che possono essere pericolose. Per cui brodino sì, ma prendiamoci sto brodino invece di prenderci due schiaffoni. La posizione del tecnico Colombo è salda in panchino? Nel modo più assoluto, una domanda che se evitate di farmela mi farà ancora più piacere perché l'ho già detto, se vogliamo noi non abbiamo venduto fumo all'inizio, non abbiamo detto a nessuno che dovevamo stravincere il campionato o vincere il campionato. Siamo partiti in un girone dove ci sono due squadre obiettivamente e onestamente molto più attrezzate di noi, sono due squadre che hanno un organico già da tempo, il Catanzaro sono due anni che ha lo stesso allenatore e la stessa compagine è migliorata ancora di più quest'anno, quindi se noi ogni volta alla minima difficoltà dobbiamo cambiare i giocatori e allenatori non costruiremo mai niente, per cui non me la fate più che io non vi risponderò più. Ultima domanda, Presidente, domenica scorsa dopo la sconfitta col Foggia c'era stata la contestazione dei tifosi all'esterno dello stadio, oggi i tifosi al seguito della squadra, al 91esimo, hanno ancora una volta manifestato il loro malcontento, la piazza non è soddisfatta. Il tifoso è chiaro che vuole vedere la sua squadra vincere, è giusto che alla fine, intanto hanno aiutato i ragazzi per tutti i 95 minuti, poi alla fine uno manifesta la sua contrarietà e ci sta, per carità, fa parte dei tifosi, i tifosi sono questi, però ti aiutano dal primo al 95esimo, perché quelli che sono venuti oggi in una partita di mercoledì alle due e mezza del pomeriggio vanno innanzitutto ringraziati e poi i ragazzi devono fare di tutto per portarli alla loro parte, perché hanno le qualità e ci sono le potenzialità per fare bene, per cui col tempo si riprenderanno anche i tifosi che all'inizio erano tutti entusiasti, adesso sono un po' più scontenti per questo periodo che sta durando già da una cinquantina di giorni ed è giusto che contestino alla fine, che non approvino magari una prestazione. Col potenza bisognerà vincere però, senza se e senza ma? Ma tutte le partite la squadra entra in campo per cercare di vincerle, io non credo che nell'allenatore i giocatori vogliono dare dispiacere ai propri tifosi, anzi sono più contenti quando vengono, quando vengono chiamati sotto la curva, vengono applauditi, non credo che ci sia un giocatore che magari va in campo cercando di fare male per prendere i fischi, quindi è naturale che la partita col potenza sarà una partita importante per noi, la giochiamo in casa, la giochiamo sul nostro terreno di gioco e quindi dobbiamo fare il meglio.